Sono fuggiti dopo aver messo le mani su un bottino da 360 euro i ladri che hanno approfittato della chiusura delle scuole disposta durante l'allerta maltempo per introdursi nella materna San Gregorio Magno di via Boccaccio a Padova. I malviventi sono entrati forzando una porta laterale mettendo a soquadro diversi ambienti dell'istituto alla ricerca di denaro. Alla fine hanno messo le mani sulla somma che era stata raccolta da un insegnante di educazione fisica per alcune attività inerenti la sua materia. Sul fatto indaga la polizia.